Buonasera a tutti, sono Francesco Prando e voglio rubarvi solo un minuto del vostro tempo. È un momento difficile, lo sappiamo tutti, questo virus ci ha rubato la tranquillità, ci ha rubato la serenità, ci ha messo addosso tanta preoccupazione, tanta paura, anche perché se ne sa poco, tante notizie, alcune vere, molte false e quindi queste notizie non ci fanno stare tranquilli, anche perché vediamo quello che è successo ai nostri amici, fra virgolette, cinesi che insomma non se la sono passata bene e quindi l'unica cosa che sappiamo è che ci sono alcune modalità di comportamento che possono aiutarci ad arginarlo, questo virus. Una di queste è restare a casa, ecco io vi prego, cercate di restare a casa se potete, fatelo per i vostri amici, per i vostri genitori, per i vostri figli, per le persone a cui volete bene. Questo momento difficile si combatte anche così, facendo delle piccole cose, siamo come tante piccole formiche che però messe insieme possiamo diventare un esercito e quindi avere qualche risultato, quindi restate a casa, fate quelle cose che magari è tanto tempo che volete fare, leggere un libro, vedervi una bella serie televisiva che magari avete visto una puntata solamente, vi è piaciuta tanto ma non avete proprio avuto più il tempo di vederla. Ecco, questo è il momento, vi mettete sul divano, cercate di rilassarvi e con la vostra televisione cominciate magari a vedervi una puntata presso l'altra, questo oggi è possibile, lo potete fare e questo magari vi aiuta a staccare un attimo la testa, a cercare di pensare per qualche ora a qualcos'altro. Ecco, questo potrebbe essere una buona soluzione, una buona idea, io lo sto facendo, io ho staccato, sono a casa, cerco di fare quello che sto dicendo a voi, non è facile però ci sto riuscendo, quindi fatelo anche voi, fatelo per questo mondo tanto bistrattato e tanto messo alla prova, ok? Diamogli una mano, restiamo a casa.